La società dello spettacolo di Guy Debord Capitolo 1. La divisione perfetta Senza dubbio il nostro tempo preferisce l'immagine alla cosa, la copia all'originale, la rappresentazione alla realtà, l'apparenza all'essere. Ciò che per esso è sacro non è che è l'illusione, ma ciò che è profano è la verità. O meglio, il sacro si ingrandisce ai suoi occhi nella misura in cui, al decrescere della verità, corrisponde il crescere dell'illusione, in modo tale che il colmo dell'illusione è anche il colmo del sacro. Feuerbach, prefazione alla seconda edizione de' L'essenza del cristianesimo 1. L'intera vita delle società, in cui dominano le moderne condizioni di produzione, si annuncia come un immenso accumulo di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione. 2. Le immagini che si sono staccate da ciascun aspetto della vita si fondono in un unico insieme, in cui l'unità di questa vita non può più essere ristabilita. La realtà, considerata parzialmente, si dispiega nella propria unità generale in quanto pseudomondo a parte, oggetto di sola contemplazione. La specializzazione delle immagini del mondo si ritrova, realizzata, nel mondo dell'immagine resa autonoma, in cui il mentitore mente a se stesso. Lo spettacolo, in generale, come inversione concreta della vita, è il movimento autonomo del non vivente. 3. Lo spettacolo si presenta nello stesso tempo come la società stessa, come parte della società e come strumento di unificazione. In quanto parte della società, esso è espressamente il settore più tipico che concentra ogni sguardo e ogni coscienza. Per il fatto stesso che questo settore è separato, è il luogo dell'inganno visivo e della falsa coscienza, e l'unificazione che esso realizza non è altro che un linguaggio ufficiale della separazione generalizzata. 4. Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale tra le persone, mediato dalle immagini. 5. Lo spettacolo non può essere compreso come l'abuso di un mondo visivo, il prodotto delle tecniche di diffusione massiva di immagini. Esso è piuttosto una beltanschauung divenuta effettiva, materialmente tradotta. Si tratta di una visione del mondo che si è oggettivata. 6. Lo spettacolo, compreso nella sua totalità, è nello stesso tempo il risultato e il progetto del modo di produzione esistente. Non è un supplemento del mondo reale, il suo sovrapposto ornamento. Esso è il cuore dell'irrealismo della società reale. Nell'insieme delle sue forme particolari, informazione o propaganda, pubblicità o consumo diretto dei divertimenti, lo spettacolo costituisce il modello presente della vita socialmente dominante. È l'affermazione onnipresente della scelta già fatta nella produzione, e il suo consumo ne è corollario. Forma e contenuto dello spettacolo sono ambedue l'identica giustificazione totale delle condizioni e dei fini del sistema esistente. Lo spettacolo è anche la presenza permanente di questa giustificazione, in quanto occupazione della parte principale, del tempo vissuto al di fuori, della produzione moderna. 7. La separazione fa parte essa stessa dell'unità del mondo, della prassi sociale globale, che si è scissa in realtà e in immagine, la pratica sociale, di fronte alla quale si pone lo spettacolo autonomo, e anche la totalità reale che contiene lo spettacolo. Ma la scissione in questa totalità la mutila al punto da far apparire lo spettacolo come il suo scopo. Il linguaggio dello spettacolo è strutturato con i segni della produzione imperante, che sono, nello stesso tempo, la finalità ultima di questa produzione. 8. Non si possono opporre astrettamente lo spettacolo e l'attività sociale effettiva. Questo sdoppiamento è esso stesso sdoppiato. Lo spettacolo che inverte il reale è effettivamente prodotto, e nello stesso tempo la realtà vissuta è materialmente invasa dalla contemplazione dello spettacolo, e riprende in se stessa l'ordine spettacolare, offrendogli un'adesione positiva. La realtà oggettiva è presente su entrambi i lati. Ogni nozione così fissata non ha per fondo che il suo passaggio all'opposto. La realtà sorge nello spettacolo e lo spettacolo è reale. Questa reciproca alienazione è l'essenza e il sostegno della società esistente. 9. Nel mondo falsamente rovesciato, il vero è un momento del falso. 10. Il concetto di spettacolo unifica e spiega una gran diversità di fenomeni apparenti. Le loro diversità e i loro contrasti sono le apparenze di questa apparenza socialmente organizzata che deve essere essa stessa riconosciuta nella propria verità generale. Considerato secondo i suoi veri termini, lo spettacolo è l'affermazione dell'apparenza e l'affermazione di ogni vita umana, cioè sociale, come semplice apparenza. Ma la critica, che coglie la verità dello spettacolo, lo scopre come la negazione visibile della vita, come negazione della vita che è divenuta visibile. 11. Per descrivere lo spettacolo, la sua formazione, le sue funzioni e le forze che tendono alla sua dissoluzione, bisogna distinguere artificialmente degli elementi inseparabili. Analizzando lo spettacolo, si parla in una certa misura il linguaggio stesso dello spettacolare, in quanto si passa sul terreno metodologico di questa stessa società che si esprime nello spettacolo. Ma lo spettacolo non è niente altro che il senso della pratica totale, di una formazione economico-sociale, del suo impiego del tempo. È il momento storico che ci contiene. 12. Lo spettacolo si presenta come enorme positività indiscutibile e inaccessibile. Esso non dice niente di più che ciò che appare è buono, e ciò che è buono appare. L'attitudine che esige per principio è questa accettazione passiva che esso di fatto ha già ottenuto attraverso il suo modo di apparire insindacabile, con il suo monopolio dell'apparenza. 13. Il carattere fondamentale tautologico dello spettacolo deriva dal semplice fatto che i suoi mezzi sono nel contempo anche i suoi scopi. È il sole che non tramonta mai sull'impero della passività moderna. Esso ricopre tutta la superficie del mondo e si bagna indefinitamente nella propria gloria. 14. La società basata sull'industria moderna non è fortuitamente o superficialmente spettacolare. Essa è fondamentalmente spettacolista. Nello spettacolo, immagine dell'economia dominante, il fine non è niente. Lo sviluppo è tutto. Lo spettacolo non vuole realizzarsi che solo in se stesso. 15. In quanto indispensabile pariur degli oggetti attualmente prodotti, in quanto esposizione generale della razionalità del sistema, in quanto settore economico avanzato, che manipola direttamente una crescente moltitudine di immagini e oggetto, lo spettacolo è la principale produzione della società attuale. 16. Lo spettacolo sottomette gli uomini viventi nella misura in cui l'economia li ha totalmente sottomessi. Esso non è altro che l'economia sviluppantesi per se stessa. È il riflesso fedele della produzione delle cose e l'oggettivazione infedele dei produttori. 17. La prima fase del dominio dell'economia sulla vita sociale aveva originato, nella definizione di ogni realizzazione umana, un'evidente degradazione dell'essere in avere. La fase presente dell'occupazione totale della vita sociale da parte dei risultati accumulati dell'economia conduce a uno slittamento generalizzato dell'avere nell'apparire, da cui ogni avere effettivo deve desumere il proprio prestigio immediato e la propria funzione ultima. Nello stesso tempo ogni realtà individuale è divenuta sociale, direttamente dipendente dalla potenza sociale da essa plasmata. Le è permesso di apparire solo in ciò che essa non è. 18. Là dove il mondo reale si cambia in semplici immagini, le semplici immagini diventano degli esseri reali e le motivazioni efficienti di un comportamento ipnotico. Lo spettacolo, come tendenza a far vedere attraverso differenti mediazioni specializzate il mondo che non è più direttamente percepibile, trova normalmente nella vista il senso umano privilegiato, che in altre epoche fu il tatto. Il senso più astratto, più mistificabile, corrisponde all'astrazione generalizzata della società attuale. Ma lo spettacolo non è identificabile con il semplice sguardo, anche se combinato con l'ascolto. Esso è ciò che sfugge all'attività degli uomini, alla riconsiderazione e alla correzione della loro opera. È il contrario del dialogo. Dovunque c'è una rappresentazione indipendente, là lo spettacolo si ricostituisce. 19. Lo spettacolo è l'erede di tutta la debolezza del progetto filosofico occidentale, che costitui pure una comprensione dell'attività, dominata dalle categorie del vedere, così come si fonda sull'incessante di spiegamento della precisa razionalità tecnica che è derivata da questo pensiero. Esso non realizza la filosofia, filosofizza la realtà. È la vita concreta di tutti che si è degradata in un universo speculativo. 20. La filosofia, in quanto potere del pensiero separato e pensiero del potere separato, non ha mai potuto da se stessa andare oltre la teologia. Lo spettacolo è la ricostruzione materiale dell'illusione religiosa. La tecnica spettacolare non ha dissipato le nubi religiose, in cui gli uomini avevano collocato i propri poteri distaccati da se stessi. Essi li ha semplicemente ricongiunti a una base terrena. Così è la vita più terrena che diviene opaca e irrespirabile. Essa non rigetta più nel cielo, ma alberga in sé il proprio rifiuto, il proprio fallace paradiso. Lo spettacolo è la realizzazione tecnica dell'esilio dei poteri umani in un al di là, scissione realizzata all'interno dell'uomo. 21. Più la necessità viene ad essere socialmente sognata, più il sogno diviene necessario. Lo spettacolo è il cattivo sogno della moderna società incatenata, che non esprime in definitiva se non il proprio desiderio di dormire. Lo spettacolo è il guardiano di questo sonno. 22. Il fatto che la potenza pratica della società moderna si sia staccata da se stessa e si sia edificata in un impero indipendente nello spettacolo, non può spiegarsi che, con quest'altro fatto, che questa potente pratica continuava a mancare di coesione ed era rimasta in contraddizione con se stessa. 23. È la più vecchia specializzazione sociale, la specializzazione del potere, che è alla radice dello spettacolo. Lo spettacolo è quindi un'attività specializzata che parla per l'insieme delle altre. È la rappresentazione diplomatica della società gerarchica innanzi a se stessa, dove ogni altra parola è bandita. Il più moderno qui è anche il più arcaico. Lo spettacolo è il discorso ininterrotto che l'ordine presente tiene su se stesso, il suo monologo elogiativo. È l'autoritratto del potere all'epoca della sua gestione totalitaria delle condizioni d'esistenza. L'apparenza feticista della pura oggettività nelle relazioni spettacolari nasconde il loro carattere di relazione tra uomini e tra classi. Una seconda natura sembra dominare il nostro ambiente con le sue leggi fatali. Ma lo spettacolo non è un prodotto necessario dello sviluppo tecnico, visto come sviluppo naturale. La società dello spettacolo è al contrario la forma che scegli il proprio contenuto tecnico. Se lo spettacolo, esaminato sotto l'aspetto ristretto dei mezzi di comunicazione di massa, che sono la sua manifestazione superficiale più soggiogante, può sembrare invadere la società come una semplice strumentazione, questa non è concretamente nulla di neutro, ma la strumentazione stessa è funzionale al suo automovimento totale. Se i bisogni sociali dell'epoca, in cui si sviluppano simili tecniche, non possono trovare soddisfazione se non tramite la loro mediazione, se l'amministrazione di questa società e ogni contatto fra gli uomini non possono più esercitarsi se non mediante questa potenza di comunicazione istantanea, è perché questa comunicazione è essenzialmente unilaterale, di modo che la sua concentrazione consente di accumulare, nelle mani dell'amministrazione del sistema esistente, i mezzi che gli permettono di continuare questa amministrazione determinata. La scissione generalizzata dello spettacolo è inseparabile dallo stato moderno, vale a dire dalla forma generale dell'ascissione nella società, prodotta dalla divisione del lavoro sociale e organo del dominio di classe. 25. La separazione e l'alfa e l'omega dello spettacolo. L'istituzionalizzazione della divisione sociale del lavoro, la formazione delle classi, avevano elevato una prima contemplazione sacra, l'ordine mitico di cui ogni potere si ammanta fin dalle proprie origini. Il sacro ha giustificato l'ordinamento cosmico e ontologico che corrispondeva agli interessi dei padroni. Ha spiegato e abbellito ciò che la società non poteva fare. Ogni potere separato è dunque spettacolare, ma l'adesione di tutti a una simile immagine immobile non significava altro che il comune riconoscimento di un prolungamento immaginario alla povertà dell'attività sociale reale, ancora largamente avvertita, come una condizione unitaria. Lo spettacolo moderno, al contrario, esprime ciò che la società può fare, ma in questa espressione il permesso si oppone in modo assoluto al possibile. Lo spettacolo è la conservazione dell'incoscienza nel cambiamento pratico delle condizioni di esistenza. Esso è il proprio prodotto ed è esso stesso che ha posto le sue regole. Si tratta di uno pseudo sacro. Esso mostra ciò che è la potenza separata sviluppata sin se stessa nella crescita della produttività realizzata mediante il raffinamento incessante della divisione del lavoro nella parcellizzazione dei gesti, allora dominati dal movimento indipendente delle macchine, al lavoro per un mercato sempre più esteso. Ogni comunità e ogni senso critico si sono dissolti nel corso di questo movimento nel quale le forze che hanno potuto crescere separandosi non si sono ancora ritrovate. 26. Con la divisione generalizzata del lavoratore del suo prodotto, si perde ogni punto di vista unitario dell'attività svolta, si perde ogni comunicazione personale diretta tra i produttori. Seguendo il progresso dell'accumulazione dei prodotti divisi e della concentrazione del processo produttivo, l'unità e la comunicazione divengono attributo esclusivo della direzione del sistema. Il successo del sistema economico della separazione è la proletarizzazione del mondo. 27. Per la riuscita stessa della produzione separata in quanto produzione del separato, l'esperienza fondamentale legata nelle società primitive a un lavoro principale sta spostandosi al polo dello sviluppo del sistema verso il non lavoro, l'inattività. Ma questa inattività non è per nulla liberata dall'attività produttiva, dipende da essa, è una sottomissione inquieta e ammirativa alle necessità e ai risultati della produzione. È essa stessa un prodotto della sua razionalità. Non ci può essere libertà al di fuori dell'attività e nell'ambito dello spettacolo ogni attività è negata, esattamente come l'attività reale è stata integralmente captata per l'edificazione globale di questo risultato. Così l'attuale liberazione dal lavoro, l'aumento dei divertimenti, non costituiscono in alcun modo liberazione nel lavoro né liberazione di un mondo modellato da questo lavoro. Nulla dell'attività rubata nel lavoro può ritrovarsi nella sottomissione al suo risultato. 28. Il sistema economico fondato sull'isolamento è una produzione circolare dell'isolamento. L'isolamento fonda la tecnica e il processo tecnico isola a sua volta. Dall'automobile alla televisione tutti i beni selezionati dal sistema spettacolare sono anche le sue armi per il rafforzamento costante delle condizioni di isolamento delle folle solitarie. Lo spettacolo ritrova sempre più concretamente i propri presupposti. 29. L'origine dello spettacolo è la perdita dell'unità del mondo e l'espansione gigantesca dello spettacolo moderno esprime la totalità di questa perdita. L'astrazione di ogni lavoro particolare e l'astrazione generale della produzione d'insieme si traducono perfettamente nello spettacolo il cui modo di essere concreto è giustamente l'astrazione. Nello spettacolo una parte del mondo si rappresenta davanti al mondo e gli è superiore. Lo spettacolo non è che il linguaggio comune di questa separazione. Ciò che lega gli spettatori non è che un rapporto irreversibile allo stesso centro che mantiene il loro isolamento. Lo spettacolo riunisce il separato ma lo riunisce in quanto separato. 30. L'alienazione spettatore a vantaggio dell'oggetto contemplato che è il risultato della propria attività incosciente si esprime così. Più esso contempla meno vive più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno meno comprende la propria esistenza e il proprio desiderio. L'esteriorità dello spettacolo in rapporto all'uomo agente si manifesta nel fatto che i suoi gesti non sono più suoi ma di un altro che glieli rappresenta. Questo perché lo spettatore non si sente a casa propria da nessuna parte perché lo spettacolo è dappertutto. 31. Il lavoratore non produce più se stesso egli produce una potenza indipendente il successo di questa produzione la sua abbondanza ritorna al produttore come abbondanza dell'espropriazione tutto il tempo e lo spazio del suo mondo gli divengono estranei con l'accumulazione dei suoi prodotti alienati lo spettacolo è la mappa di questo nuovo mondo mappa che copre esattamente lo spazio del suo territorio le forze stesse che ci sono sfuggite si mostrano a noi in tutta la loro potenza 32. Lo spettacolo nella società corrisponde a una fabbricazione concreta dell'alienazione l'espansione economica è principalmente l'espansione di questa produzione industriale precisa ciò che cresce con l'economia muovendosi autonomamente per se stessa non può essere che l'alienazione che era propriamente insita nel suo nucleo originario 33. L'uomo separato dal proprio prodotto sempre più potentemente produce esso stesso tutti i dettagli del proprio mondo quanto più la vita è ora il suo prodotto tanto più è separato dalla propria vita 34. Lo spettacolo è il capitale a un tale grado di accumulazione da divenire immagine che Grazie a tutti